Amici di Sport in Oro e fuori aria, benvenuti al campo Roma. Ottava giornata del campionato giovanissimi Elite, girone B, gara tra Romulea e Anzio Lavinio. Corner con il destro, ancora l'uscita di Cacciarelli a vuoto, la porta è vuota e l'Anzio Lavinio trova il gol con De Gennaro. Petrarchi che prova a calciare Petrarchi, pallone sul fondo, la reazione della formazione di Roberto Belardo con il destro in diagonale di Petrarchi. Calcia che Cacci sul secondo palo, non arriva la deviazione vincente di Petrarchi. Con il destro sul secondo palo, Petrarchi, colpo di testa di Petrarchi, uno a uno, la Romulea è appareggiata con il suo capitano Petrarchi. Tutto pronto, la rena questa volta calcia sul secondo palo, Cacciarelli, messo fuori dalla difesa, poi ancora che cacci prova addirittura col sinistro da lontano. Blocca a terra combi. Bancone, Capri per Belardo, dentro il pallone per Petrarchi, Petrarchi calcia col destro, Petrarchi! 2-1 per la Romulea, anche se sembrava essere partito leggermente avanti il numero 7, che trova quindi la doppietta e il terzo gol stagionale. Salgono le torri, 6 maglie, Marantoro in area di rigore, calcia che Cacci sul secondo palo, vuoto combi, colpo di testa e gol della Romulea. con il numero 5, De Chiara. Cross di Lacchè sul secondo palo, a vuoto, ancora combi, in difficoltà in questa ripresa, se la cava comunque l'Anzio Lavinio. L'ultima giocata del match, vince la Romulea, 3-1, la doppietta di Petrarchi a ribaltare l'iniziale vantaggio di De Gennaro nella ripresa. Il gol di De Chiara, sesta vittoria consecutiva per gli Amarantoro di Belardo. Grazie a tutti.